Ci rincontreremo qui tutti in questa piazza 20 settembre e ci sarà l'occasione di fare diversi discorsi e diverse testimonianze perché secondo noi il razzismo è sinonimo di ignoranza e quindi la nostra intenzione è combattere il razzismo attraverso l'informazione. Tantissime le adesioni che avete già ricevuto da giovanissime e non solo. Sì, sui social abbiamo avuto un riscontro molto positivo, su Facebook abbiamo più di mille persone interessate alla manifestazione, su Instagram abbiamo più di 100 follower in pochi giorni. Ovviamente per le misure di sicurezza anti-covid gli ingressi saranno limitati. Esatto, cercheremo di garantire rispetto delle distanze, obbligatorio l'uso delle mascherine ed è una protesta pacifica. Ecco, mamma sia tu che Abdu che Samuel, ovviamente avete la famiglia di origine africana, però voi vivete, c'è chi è nato, chi è arrivato qui molto piccolo, avete tra l'altro tenuto tutti e tre la cittadinanza italiana. Cosa ve la sentite di dire anche rispetto a eventuali stereotipi che ancora magari vedete, forme di razzismo sul territorio? Ci sono o non ci sono? Parto da mamma. Ci sono diverse forme di razzismo più latente, devo dire. Mi è capitato più volte di aspettare l'autobus e trovarmi la persona che si ferma e che mi chiede quanto costa oppure se vuole conoscermi, se potrebbe conoscermi. Vero che tu hai avuto problemi anche per avere in affitto una casa a Pisa per l'università. Esatto, c'erano degli annunci in cui specificavano che non volevano stranieri. Dopo aver chiamato, tutto a posto, ma poi vedono il nome, capiscono che sono straniera, dicono che non affittano la casa a stranieri. Quanta rabbia ti viene? Molta, perché nasci e cresci in un paese che non ti considera proprio come cittadina di quel paese, nonostante tu conosca la loro cultura alla perfezione. Noi dobbiamo lottare non solo per noi, perché comunque è vero, noi abbiamo già la cittadinanza, ma purtroppo ci sono molte persone nere che purtroppo non hanno ancora la cittadinanza e penso che abbiano dimostrato di essere italiane. Tu mi parlavi di qualche forma un po' di esclusione anche nel mondo lavorativo, nonostante le tue competenze. C'è molta difficoltà, perché si sa ormai l'Italia va avanti con le raccomandazioni e visto che non siamo integrati tutti, è molto difficile per certe persone riuscire a trovare lavoro, questo vorrei dire. Ecco Samuel, tu mi hai parlato anche di situazioni a livello scolastico, non facili. Ad esempio a scuola un professore mi aveva insultato, mi ha chiamato Negro, cioè le professioni non dovrebbero dare l'esempio. Non c'è coraggiare il razzismo, per il mio punto di vista. Ma c'è tanto di cui riflettere anche sul territorio. Ultima cosa, voi avete deciso però di dare un ulteriore nome al vostro movimento, alla vostra iniziativa. Mama? Ci chiamiamo One Community per dimostrare che noi siamo tutti una grande comunità e la differenza ci deve rafforzare e non dividere.